Vi ricordate di Alice Gerardi? Interpretare il ruolo di Alice in vivere è stato un sogno. È stato il realizzarsi di un percorso per cui avevo lungamente e duramente studiato. Ero giovane, avevo 20 anni, 21, è stata la mia primissima esperienza importante e ho dei ricordi meravigliosi. Lo so che sembra banale da dire, ma eravamo come una grande famiglia. Noi lavoravamo tutti i giorni e abbiamo lavorato per tantissimi anni insieme. Volente o non volente, in un modo o nell'altro, si creavano dei rapporti con i macchinisti, con le truccatrici, i parrucchieri, le costumiste, i ragazzi, i colleghi ovviamente, alcuni dei quali porto ancora nel mio percorso di vita. Il set per me è qualcosa di speciale, vivere quell'atmosfera, quelle tensioni, respirare quegli odori, quelle emozioni. È la cosa per me ovviamente più bella che esista.